Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Martina Colombari, poliedrica figura di modella, attrice ed ex Miss Italia, ha subito un intervento d'urgenza all'addome per una peritonite. Attualmente in fase di recupero, ha voluto rassicurare i suoi fan con un messaggio condiviso su Instagram direttamente dal letto dell'ospedale. Con occhiali da vista e il viso segnato dalla fatica, l'ex Miss Italia, anche nota come moglie di Alessandro Costacurta, ha spiegato il motivo della sua temporanea assenza dai social. Buongiorno, se sono stata lontana in questi giorni è perché ho trascorso del tempo in ospedale. Oggi finalmente mi dimettono, per fortuna ha raccontato. Ho subito un intervento d'urgenza all'addome, un momento critico di peritonite. Sono stata ricoverata presso l'ospedale Ciccarini a Riccione, dove ho trovato magnifico supporto da parte dello staff del dottor Lucchi, comprese le OSS e le infermiere. Hanno curato e salvato la mia vita. Ora, piano piano, mi riprenderò. E tu che ne pensi di questa notizia? Ciao a presto.